ciao ragazzi ciao oggi a me sconosciuto dalla fia di san giugno sempre questo pacchetto che la mia sorella monella sì 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 wassi è una violenza è una piaccia per iây E' un'altra cosa C'è un'altra cosa C'è un'altra cosa questo è quello che abbiamo trovato questo è quello che abbiamo trovato il nostro canale questo è quello che abbiamo trovato 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 ora, non so, non so ora, non so ora, non so ora, non so ora, non so non so non so non so che è stato qui è stato è stato l'ho Sottotitolo. Ciao. Cos, ci sono salto. Che stacca, stacca, però? Stacca, stacca! Ci sono salto? Ci sono stati ragazzi. Cos, non mi dici che faremo spesso in quanto si serve. Cos, non ci sono. Cos, ecco. Ah, è certo. Che stacca, ecco. beh Grazie.